allora ragazzi eccoci qui per una nuova recensione questa volta vi porto un marcio che non avevo mai recensito prima orient star guardate che spettacolo questo qui è stato l'orologio che indossato alla fiera di pescara al watch money ragazzi mi sono divertito tantissimo c'erano 60 banchi di orologi vintage giusto qualcuno di moderno saluto antonio chiatamone che comunque ha voluto la alla nostra presenza nostra intendo quella la dell'associazione dell'orologeria campana con ad hoc 2022 e con mariano siamo andati il presidente di mdm vintage orologi e gredano di watch e mur e insieme a noi c'era anche mister omega della gang è stata una fiera molto interessante io ho comprato tra l'altro due orologi che vi porterò presto sul canale volevo giusto recensire prima questo questo orient ma ho comprato un omega è un login molto interessanti che diciamo che abbiamo fatto la nostra caccia lì alla fiera è stato veramente interessantissimo per quanto riguarda il canale ragazzi continuate a seguirmi iscrivetevi potete anche seguirmi su tik tok e su instagram dove comunque pubblico video un po più veloci rispetto a quelli di youtube per quanto riguarda invece la fiera nostra che si darà a napoli dell'orologeria campana sempre il 13 14 maggio potete chiedere tranquillamente i biglietti a me o agli altri canali che vi ho citato prima per diciamo venire a trovarci abbiamo fatto sold out come sapete lo diciamo spesso e siamo molto molto felici questo orologio mi ha sorpreso molto vi dico la verità era da tanto tempo che volevo acquistare un orient star e poi ne ho avuto la possibilità e l'ho preso subito secondo me sono orologi che hanno una qualità costruttiva molto bella e poi hanno un design che vi devo dire la vita raga non è che lo vedo tanto copiato in giro però in generale secondo me hanno proprio un bel design di orienti stare per una lavorazione ovviamente leggermente superiore rispetto agli orienti classici anche se anche i prezzi comunque salgono e il lavoro che fanno è veramente stupendo ve lo faccio vedere da vicino vai allora ragazzi eccoci qui con la nostra scatola secondo me fanno una scatola veramente top guardate che che bella c'è una pure una bella morbidezza logo orient star e dentro poi troviamo l'orologio disteso anche l'interno è curato insieme il velluto e anche il cartellino un bel cartellino finalmente non più quei cartellini fatti di carta ma che si perdono si strappano si buttano ma questo qua è una vera e propria medaglia vedete anche se ovviamente sempre fatta in plastica però qui c'è la referenza del orologio ma veramente secondo me fatta bene è una scatola che merita vi faccio vedere l'orologio eccolo qui vi voglio far dare subito uno sguardo al quadrante per farvi capire il livello della lavorazione vedete com'è curvo in generale già soltanto se vedete dal video l'orologio così già a distanza capite che comunque c'è un'ottima qualità nella lavorazione allora andiamo alle dimensioni mi sono segnato tutto abbiamo un orologio di 40 mm in questo caso fanno anche una versione più piccolina se non ero 38 mm questa qui la versione 40 lo so che come al solito qualcuno dirà sì ma 40 mm è un classico ragazzi invece è portatilissimo perché è 40 mm 43,8 mm con la corona che non è così enorme ma ci sta per un orologio di questo design abbiamo soltanto 46 mm di lag to lag infatti nonostante comunque sia un 40 che non è un orologio grande il lag to lag comunque è abbastanza contenuto vedete le ansie come curvano quindi la portatilità è massima abbiamo un cinturino sì leggermente largo e 20 mm ma diciamo ci sta che finisce 16 quindi si rastrema tantissimo fino al bordo alla fine e 13 mm di spessore con il vetro zaffero bombato antiriflesso infatti questo orologio secondo me ha un bel vetro guardatelo qua secondo me c'è un bel vetro da cassa è tutta lucida tra l'altro una c'è una buona lucidatura sempre perché dicevamo che comunque già orient lavora bene ma comunque orient star vedete che bella lucidatura alla cassa già se noi siamo sul livello leggermente superiore e abbiamo questo quadrante azzurro che si è un po complesso ma alla fine abbastanza armonioso allora abbiamo l'apertura qui davanti ad ore 9 io non sono un fan degli orologi scheletrati o a pe però diciamo l'open heart è quello là che più preferisco se devo prendere un orologio aperto non preferisco gli scheletrati se devo essere sincero in questo caso quello che si vede non è nemmeno tanto chip anche perché adesso girerò vi farò vedere il movimento che è lavorato veramente molto molto bene il movimento è un movimento in house di orient f6 r4 vedete lo leggete qua che è un movimento comunque fatto bene a 22 rubini 50 ore di riserva di carica infatti lo vediamo qui dalla riserva di carica in alto abbiamo 50 ore di riserva di carica 21.600 alternanze ora è più o meno 15 20 secondi al giorno il che comunque lo rende abbastanza preciso abbiamo anche una bellissima lavorazione secondo me sul movimento codice neve e per l'age per quanto riguarda la masch la massa oscillante che tra l'altro guardate questa massa oscillante come bella con il logo rilievo orient star japan l'orologio è fatto in giappone un fondello chiuso a vite anche se soltanto 50 metri però comunque raga è un orologio dress però mi piace che c'è il fondello chiuso a vite ma è 50 metri sempre meglio che 30 anche se io non gli farei incontrare dell'acqua il quadrante come dicevamo all'apertura qui ad ore 9 è di un bellissimo azzurro cielo vi posso assicurare che penso che non ne facciano tanti di orologi di questo tipo di azzurro probabilmente è uno dei pochi che vi potete mettere in collezione ovviamente pochi intendo una fascia di prezzo però secondo me raga è bello io ne sono rimasto proprio entusiasta al quadrante curvo alla fine infatti vediamo gli indici principali che sono comunque applicati che curvano alla fine e poi abbiamo il resto degli indici che sono diciamo stampati i numeri romani molto tenue vedete infatti non sono proprio netti netti da vedere mi piace che sono stampati e curvano sempre ovviamente insieme al quadrante abbiamo un altro disco qui interno c'è la scritta in basso vi faccio vedere togliamo un attimo le sfere tanto il calibro anche il fermo macchina vi faccio vedere le sfere le sfere a picche vedete satinate che fanno anche queste qua un bel contrasto e la sfera dei secondi che è blu che è un ago la mia sfera di secondi preferita è questa qui così come la vedete abbiamo il logo orient star che è una s con un cerchio orient star in basso e automatic diciamo che il bianco non vuole essere netto non vuole venire molto fuori abbastanza bello tenue e il quadrante questo azzurro polvere è molto molto bello abbiamo una corona lavorata vi faccio vedere ha un'ottima lavorazione è una buona presa e tra l'altro anche qui un cristallo diciamo sempre tipo cabochon qui davanti in blu il cinturino è un cinturino in pelle che non mi ha proprio entusiasmato però è fatto abbastanza bene e ha la chiusura tipo come quella la vi portai e vi feci vedere il seco presage cocktail che portava a questa chiusura se non mi sbaglio io ero al terzo qui vi faccio vedere allora inserite ovviamente qui e poi lo andate a mettere e mi piace come finisce alla chiusura mi piace molto vedete guardate come avvolge bene il polso ovviamente un 20 che finisce 16 in pelle avvolge bene il polso l'ho messo al contrario si ho messo al contrario però per farvi capire che guardando dalla telecamera non avevo fatto caso che l'avevo messo al contrario eccolo qua vi faccio vedere come veste bene nonostante i 40 mm magari qualcuno lo vorrebbe 38 o qualcun altro addirittura 36 però guardate che vestibilità a questo 40 mm io ho un polso abbastanza grande quindi ci sta vetro zaffero curvo antiriflesso cassa tutta quanta lucida è un orologio che comunque ragazzi costa 780 euro sul sito orient adesso si so si trova a 630 ma diciamo che per le caratteristiche io penso che siamo in linea perché abbiamo quasi tutto al top abbiamo un movimento in house tra l'altro anche bello lavorato l'avete visto non è facile trovare quelle lavorazioni su movimenti poi questo qui è un in house abbiamo comunque una cassa che ha una lucidatura già di livello superiore rispetto diciamo ai basici abbiamo un bel cinturino in pelle un'ottima lavorazione del quadrante curva sui lati diciamo che i 600 euro secondo me ci possono tranquillamente stare tra l'altro anche la chiusura del bracciale non è male fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti adesso siamo a posto due giorni ciao 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 ciao